ai di baci torna al grande fratello 2023 per spiegare nel dettaglio cos'è successo nel momento in cui ha deciso di andare via l'ex gfina ha un confronto molto acceso con massimiliano varrese smontandolo in diretta lui invece si fa forte degli strani applausi provenienti dallo studio di canale 5 andando con ordine alfonso signorini rivela i gfini che è presente fuori dalla porta rossa aidi la quale non ha intenzione di entrare nella casa di cine città baci ha preferito non avere un confronto faccia a faccia per mantenere un distacco signorini da subito la parola all'ex concorrente che ha lasciato la casa in modo abbastanza forte in questo momento sono tranquilla perché ho tantissima chiarezza non vedo l'ora di dire la mia perché ho visto tutto io sono d'accordo posso capire le loro reazioni a caldo è stata una scena forte alcuni individui sono andati oltre con la fantasia tipo massimiliano sconvolgente vedere persone dare opinioni sulla mia famiglia senza sapere ho capito subito che c'era qualcosa che non andava con mia mamma il fatto che io sono qua fa capire che mio padre non è un padre padrone non era paura volevo tranquillizzare i coinquilini a casa che sto benissimo sono andata per scelta mia perché mia mamma stava male detto ciò haidi al gf fa riferimento alle particolari dichiarazioni di massimiliano riguardanti la sua calligrafia della lettera che ha scritto la scorsa settimana varrese nei giorni scorsi ha affermato di aver notato nella sua scrittura che le mani le tremavano dichiarazioni forti che stasera haidi smentisce con l'applauso del pubblico a casa ma non di quello in studio la maggior parte dei telespettatori sta dalla parte di baci ed è schierato contro massimiliano è raro trovare un commento di un fan dell'attore eppure sembra che lo studio sia composto solo da spettatori appassionati al percorso dell'attore a quanto pare è così ma il pubblico a casa non ci sta a detta di questi telespettatori è impossibile che varrese possa ricevere applausi così forti persino chi non apprezza haidi non riesce comunque a stare dalla sua parte